E' un'opportunità bellissima. Ho potuto partecipare l'anno scorso in un Temporary Shop organizzato da Camara Notto. Ho avuto parecchio riscontro, ho potuto conoscere persone che ho avuto modo di conoscere solamente online ed è stato veramente piacevole. Come nascono le tue creazioni? Nascono pensando molto al mondo vintage, quindi a tutto ciò che è retro e poi alla sperimentazione sempre legata comunque alla tradizione. E' un mix tra retro e avanguardia. Ciao Sonia e ciao Valentina. Cos'è per voi Fashion Camp? Innanzitutto un'occasione di visibilità e poi un'opportunità comunque di incontro con le persone con cui stiamo incontrando quotidianamente. Abbiamo modo di incontrarle di persona, scambiare quattro chiacchiere senza lo schermo che ci divide. E poi siamo sprayer qui come media partner dell'evento e siamo special guest di Melilli, insomma è un'occasione importante per noi e l'abbiamo colta al mondo. Lei come ha scritto mi ruba sempre le battute, quindi io sarò quella che ripete la copione di turno, però si è vera un'opportunità, un'opportunità in tutti i sensi, per i designer, per esporsi, per mettersi in pista, per farsi conoscere, per chi come noi si occupa di moda, di bellezza, di libreria, è un modo per riconoscere nuove persone che vogliono conoscere Sprite, scrivere Sprite, scrivere Sprite, semplicemente leggere e sbagliare i dettagli e noi speriamo di poterla accontentare tutte.